Ho fatto un giro agli orti tergestini e quando siamo ritornati erano un sacco di litidi urbani che davano le molte a centinaia e centinaia di automobilisti. La protesta scatta a Sveglia Trieste e subito contagia i social network. Tanti i triestini che ieri, vista la bella giornata di sole, hanno deciso di visitare la mostra mercato Orti Tergestini, allestita nel parco dell'ex OPP di San Giovanni. La nostra telespettatrice, oltre a segnalare la consueta carenza domenicale di autobus, ha aggiunto che era praticamente impossibile trovare un parcheggio regolare. In tanti hanno optato per l'assoluzione di fortuna, trovando all'uscita la mara sorpresa. Abbiamo aspettato 20 minuti l'autobus e visto che non arrivava abbiamo deciso di prendere l'auto. Siamo entrati nel parco di San Giovanni, era tutto occupato, per cui siamo riusciti per posteggiare sull'alto di Via Valerio. In pratica con questa crisi si dà la possibilità di far guadagnare il comune, che cosa fa? Dalle molte ai cittadini. Complimenti al sindaco e al capo dei vigili urbani. Nessuna intenzione di fare cassa, assicura il comandante della polizia locale Sergio Abbate, che spiega. Siamo stati costretti a intervenire, poiché all'uscita alta del parco si è verificato un incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Ci hanno chiamati e non abbiamo potuto far altro che sanzionare le auto in divieto di sosta, circa una trentina, alcune delle quali ha aggiunto anche in posizione di intralcio per pedoni e altri veicoli.